Oggi torno a parlarvi di scambiatori e per la precisione parlo di flussi negli scambiatori, ovvero scambiatori che funzionano in equicorrente o in controcorrente. Che cosa significa e che cosa cambia? Cosa significa? Diciamo che lo dice la parola stessa, uno scambiatore in controcorrente prevede che i due fluidi che scambiano energia, quindi che trasferiscono il calore l'uno all'altro, circolino all'interno dello scambiatore controcorrente, ovvero uno nella direzione opposta all'altro. Ora, se in uno scambiatore di calore a piastre è abbastanza semplice da capire, ovvero un fluido scende dall'alto verso il basso, l'altro fluido dal basso verso l'alto. In uno scambiatore a fascio tubiero a singolo passaggio questo discorso è altrettanto semplice perché abbiamo un mantello nel quale il fluido fluisce, diciamo così, in una direzione e nei tubi l'altro fluido scorre nella direzione opposta. È evidente che quando abbiamo uno scambiatore a più passaggi diventa un po' più complicato capirlo. In uno scambiatore ad aria, ovvero in uno scambiatore a pacco alettato, anche qui il concetto è piuttosto semplice da capire. Abbiamo il flusso dell'aria che scorre nella direzione opposta del flusso dell'acqua. Equicorrente è esattamente il funzionamento opposto, ovvero tutti e due i fluidi scorrono nella medesima direzione. Cosa cambia e perché si utilizza un metodo piuttosto che un altro? Cosa cambia è abbastanza evidente. Diciamo che uno scambiatore che funziona in controcorrente consente la maggiore efficienza di scambio termico, ovvero consente di avvicinare moltissimo la temperatura di uscita di un fluido alla temperatura di ingresso del fluido opposto, sia nel caso di riscaldamento che nel caso di raffreddamento. Non sto qui a parlarvi di temperature perché è evidente che la cosa funziona in entrambi i casi. Negli scambiatori a piastre, peraltro, questo tipo di scambio controcorrente consente anche l'incrocio di temperature. L'incrocio di temperature è consentito evidentemente anche in tutti gli altri tipi di scambiatori con coefficienti di rendimento e quindi con una resa termica differente in funzione del tipo di scambiatore, quindi in funzione dei coefficienti di scambio, della tipologia di scambiatore, ma non è questo l'argomento di questo video, anche perché ne abbiamo parlato già diffusamente in altre occasioni. Equicorrente. Equicorrente evidentemente non consente un incrocio di temperature per ovvi motivi, perché le due temperature tenderanno ad avvicinarsi dal punto di partenza al punto di fine. Quando lo si utilizza? Quando, ad esempio, abbiamo necessità di fare dei raffreddamenti o dei riscaldamenti o, diciamo così, degli scambi termici che siano un po' più soft, ovvero meno drastici, meno invasivi, meno impattanti dal punto di vista termodinamico per il fluido che deve essere raffreddato o riscaldato. Perché questo? Ci sono ad esempio degli scambi termici nel settore farmaceutico o nel settore alimentare, dove il prodotto che viene raffreddato barra riscaldato ha bisogno di uno schema termico che non gli faccia subire degli shock, che magari provochi un'alterazione del prodotto stesso, compromettendone poi l'utilizzo finale. Questa è fondamentalmente la differenza. Se non fosse chiaro, scrivetemi di con me. Buona giornata a tutti e grazie.